Quando la presentazione di un libro diventa occasione di riflessione sullo sviluppo di una tecnica intermodale che è stata determinante nel creare un mercato globale. È il caso del volume Agli inizi del container Lloyd Triestino e linee per l'Australia del professor Sergio Bologna. Una storia di tecnica logistico portuale che riconosce il merito a chi aveva intuito già alla fine degli anni 60 il grande futuro che questa innovazione avrebbe apportato nel ciclo del trasporto di merci. Questa ricerca ricostruisce un passaggio importante della storia dell'Oi Triestino e anche della marineria italiana in quanto tale. Nel senso che racconta come una compagnia di navigazione italiana è entrata dentro un consorzio, quindi dentro un'alleanza tra compagnie di navigazione che hanno potuto organizzare un traffico merci su una delle rotte più lunghe del mondo. Attraverso il lavoro di indagine su fonti inedite di un gruppo di ricercatori è nato un racconto che si snoda tra Trieste, Londra, Hamburgo, Genova e Sydney perché le prime navi full container di bandiera italiana furono impiegate proprio nella rotta per l'Australia. Si trattava di navi tecnologicamente avanzate in cui furono utilizzati per la prima volta nel settore commerciale gli elaboratori elettronici e i collegamenti satellitari riservati fino a quel momento a ramo militare, una pagina di storia dello shipping che ha dato origine alla moderna portualità. È un libro di storia, quindi va visto in quel senso, ma è anche un libro che insegna molto come funziona il presente e quindi come tutti i libri di storia, corsi e ricorsi storici che ci spiegano come e cosa dobbiamo fare anche oggi nel nostro mondo sempre più complesso e variabile.